Ciao a tutti! Dopo un periodo importante nel nostro paese, ma soprattutto di grande sofferenza per tanti nostri cittadini, abbiamo deciso di ritornare, anche se in modo virtuale, nelle piazze. Non possiamo ancora vederci da vicino, parlarci, confrontarci e darci la forza di affrontare questo periodo che sicuramente può essere il cambio di passo che possiamo avere nella sanità, così come in tutto quello che è il mondo del welfare e del sociale. Ci ritroviamo nuovamente a parlarci, a condividere, a confrontarci su una piattaforma virtuale, digitale, in attesa di rivederci da vicino. Vi racconteremo quello che noi abbiamo fatto in questi mesi e quello che stiamo continuando a fare. Vi invito anche a cliccare sul link per farci le domande, per chiederci i vostri dubbi, per chiarire i vostri dubbi e le vostre domande. Vi aspetto alla tappa del Piemonte del Riparte l'Italia Tour, lunedì 6 luglio alle ore 20.30. condividete in modo che tante persone possano sapere quello che stiamo facendo per l'Italia e per tutti i nostri cittadini. Quindi vi aspetto.